Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app! Mi chiamo Flavio, ho 15 anni e mi piace divertirmi. Comunque uscire la sera, fare casino, questo. Cioè io abito a Riccio, non abito in una grotta. Io a scuola vado bene, però non ho un buon rapporto con i professori, ma in generale con tutti, a prescindere, perché non ascolto quello che mi dicono gli altri, ecco. Faccio di testa mia sempre. Io ho 15 anni e la mia vita la voglio vivere come voglio, fine. Eh no, fine no. Io non ci so. Non è così, non è così. Le regole si devono saper rispettare. Speriamo che il collegio lo aiuterà soprattutto a capire come ci si comporta all'interno di certi contesti. Eh, io al collegio mi divertirò e l'ultima cosa che farò sarà studiare e rispettare le regole, sicuramente. Eh... 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 Eh...